Sì, sì. Se mi dovessi un po' impappinare è per questo. Una domanda che mi sono posto è si può parlare di turismo sostenibile senza preoccuparsi della felicità dell'essere umano? No, quindi il Tuepi è una start-up che si occupa di interpretare il turismo sostenibile includendo la felicità degli esseri umani. Il problema che noi affrontiamo ha a che fare molto con la responsabilità sociale e infatti anche Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food per chi non lo conoscesse è d'accordo con noi perché lui dice che il turismo sostenibile è turismo sostenibile se si occupa della felicità degli abitanti di un territorio non è tanto un turismo solo di facciata. Quindi Tuepi che cosa vuole, che cosa va ad impattare, che cosa vuole, quale problema vuole affrontare? Il problema principale che oggi abbiamo nel mondo del lavoro è che la maggior parte delle persone nel mondo lavorativo non sono felici. Il 96% sono quelle persone che in Italia hanno risposto di non essere felici nel mondo del lavoro. E questo lo riporta Gallup, una società internazionale. Siamo gli ultimi in Europa, in Italia. E potete pensare quante volte una persona perché non è felice in un'impresa lascia il posto di lavoro oppure non ritorna. Quindi è molto importante parlare di felicità insieme al turismo della sostenibilità. E noi vogliamo appunto portare questo problema alla luce di questo mondo del turismo. Attraverso ovviamente che cosa vuole fare il nostro percorso, la nostra start-up. Vuole portare le imprese del mondo del turismo ad affrontare questo problema attraverso dei percorsi di crescita personale, dei percorsi di crescita professionale. Ovviamente, perché è importante prendersi cura delle relazioni umane all'interno dell'impresa, all'interno della comunità. In più vuole creare un'organizzazione rigenerativa che possa crescere sempre di più, possa essere felice, possa essere interattiva, collaborativa. E in più vuole portare quello che è il posizionamento, un nuovo posizionamento sul mercato che oggi come oggi ti differenzia rispetto ai competitor. Infatti, i risultati che vogliamo portare nell'azienda sono che i collaboratori si sentono più felici e si sentono coinvolti e motivati all'interno della loro impresa. In più, c'è una felicità interna lorda all'interno della comunità, all'interno della nazione, maggiore rispetto a prima. E questo fa sì che si parli di questa impresa, si parli di questa nazione, si parli di questo territorio e di questa comunità, e c'è quello che possiamo definire un valore differenziante a livello di marketing, a livello di mercato, che ti differenzia dai competitori che parlo tanto di turismo sostenibile, ma alla fine fanno solo fumo, perché cambiano l'apparenza, ma in sostanza all'interno della loro società, nella loro impresa, hanno dipendenti infelici, oppure molte volte schiavizzano i propri dipendenti. Questo fa sì che non sia tanto sostenibile questa impresa turistica. Allora, noi che cosa stiamo andando ad impattare facendo tutto questo percorso? Stiamo impattando soprattutto su questi obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, che sono il numero 8, la numero 10 e la numero 11. Vogliamo così rendere il turismo e l'ospitalità un'occasione per aumentare la felicità interna lorda, e in più vogliamo aumentare le buone pratiche, vogliamo sviluppare questa comunità locale, veramente, non per i fondelli. Cosa abbiamo fatto finora? In questo percorso abbiamo già fatto un po' di strada, insieme al programma, insieme ai docenti, e adesso ci troviamo in un punto davvero importante, perché vogliamo arricchire il team, vogliamo portare quelle persone che sono, quelle competenze, quelle risorse, quei talenti che sono in linea, che sposano questa vision, questa missione che noi abbiamo, e portare avanti in questo settore del turismo sostenibile un'area nuova, un'area diversa, un'area felice. Siamo alla ricerca di partner, di partner che vogliono veramente impattare nella società, vogliono impattare a livello sociale, vogliono aumentare quello che, oggi come oggi, forse è una delle cose più importanti, che ha un effetto valanga su tutto il resto, sui profitti, su la società, sulle nazioni, sulla politica, su tutto, che è veramente il benessere sociale, la felicità umana, quello che ognuno di noi aspira di più, la propria realizzazione. E per fare ciò abbiamo bisogno, ovviamente, dei partner, abbiamo bisogno di nuove persone, il nuovo team di Nuova Linfa, perché attualmente siamo io, che sono Samuele Diorgi, ovviamente vi avete già conosciuto qui, e sono un counselor, sono uno che si occupa di digital market da tanti anni, sono un social media manager, e c'è un amico mio, che è Alessandro Villella, che gli piace definirsi facilitatore di ecosistemi umani rigenerativi, che così sembra non dire nulla, ma è una persona che si occupa molto di facilitare i gruppi, di aiutare le persone, di costruire organizzazioni rigenerative, è uno che, se qualcuno magari di voi ha già sentito, permacultura, sociocrazia, è uno che bazzica molto su queste tematiche, ed è formato in questo. Quindi siamo qui, proprio per cercare persone che vogliono anche loro contribuire, in questo nostro progetto, in questo nostro sogno. Per fare ciò abbiamo pensato che le prime persone, le prime professioni, le prime competenze magari possono essere queste, ma non è detto che se non siete project manager, chef happiness officer, web designer, executive coach, non possiate far già parte di Tueppi. ho inserito queste quattro, quattro, diciamo, figure professionali, un po' per orientare su quello che adesso cerchiamo in modo più forte, però se per te questo Tueppi è una cosa molto, molto, molto sentita, è, ti è acceso una lampadina, ti è risuonato qualcosa, allora, questa è la buona occasione per poterne parlare, perché siamo proprio con le porte aperte, con la rifluzione, con la creazione di tutto ciò, e crediamo che più andiamo avanti e più si parlerà di felicità, sia felicità rispetto al turismo sostenibile, alla sostenibilità in generale, all'ecologia, alla transizione ecologica, perché non possiamo distinguere le due cose e separarle. Siamo un po' out of time, quindi se puoi trovare le conclusioni, grazie. Questa è, quindi Tueppi, io sono a disposizione per i contatti, per parlarne, e qui c'è il, un QR code che se volete, diciamo, scannerizzare, potete così inserire i vostri dati e raggiungere magari degli aggiornamenti future del nostro viaggio verso la felicità. Grazie, lascio la parola a voi. Grazie Samu. Qualcuno ha delle domande? Per Tueppi? Fabrizio, ok. Qual è la Unique Value Proposition? Comunque Fabrizio, se vuoi puoi intervenire parlando, senza problemi. Qual è la domanda? Vabbè, la leggo io. Allora, qual è la Unique Value Proposition? Qual è il prodotto o servizio che proponete? Come a chi pensate di venderlo? Allora, la prima domanda... Poi valere venendo a te. Sì, alla prima domanda rispondo che è quella di trasformare le imprese tradizionali turistiche in imprese turistiche sostenibili. Quindi, accompagnare queste imprese turistiche sostenibili verso un mondo veramente rigenerativo e sostenibile. Il prodotto che noi proponiamo sono dei percorsi, delle consulenze, delle formazioni e degli accompagnamenti. Quindi, si basa molto sulla consulenza, sulla formazione, molto sulla relazione umana. Questo è quello che più andiamo a portare come prodotto. Chi pensiamo di venderlo? Allora, sono vari, ma quelle che ci concentriamo di più sono quelle imprese turistiche che già si trovano in un mondo dove sta cambiando, sta andando verso la sostenibilità. Quindi, quelle imprese turistiche che già parlano di ecosostenibilità, di bio, di green, stiamo andando a vendere, a vendere queste soluzioni anche a chi si occupa dei team all'interno delle imprese turistiche, come i direttori, come i metri, tutti coloro che hanno un ruolo di gestione delle persone, degli esseri umani all'interno di un'organizzazione e poi anche ai consulenti turistici che vogliono un po' ampliare e vogliono un po' aumentare quelle che sono le loro competenze nell'ambito turistico per traslare questo modello di TUEPI, questo modello di felicità e questo modello di turismo sostenibile. Grazie. Valeria? Ciao Samuele, ciao a tutti. Allora, volevo farti una domanda. Non ho capito bene la connessione tra diciamo il servizio di crescita personale per quanto sono assolutamente d'accordo che i dipendenti devono essere felici in azienda e l'automatismo diciamo che ne deriva che poi diventa un turismo sostenibile cioè lo associerei mentalmente io più ad un corso su come trasformare un turismo da normale a più sostenibile come percorso di crescita quindi volevo capire il legame e il flusso che vi immaginate da offre un percorso di crescita all'interno dell'azienda e quindi il turismo diventa sostenibile. Grazie della domanda allora ti dico già che ci sono degli studi che portano in evidenza quanto una persona diventa più sostenibile nella società nel momento in cui diventa più felice nella sua vita è una conseguenza è un effetto quindi se noi andiamo ad impattare molto sulla felicità sul benessere umano andiamo ad impattare molto sulle loro pratiche sui loro comportamenti sui loro modi di essere e questo qui porta ad essere più sostenibili quindi è un è un collocamento diretto a questo non so se ti ho risposto e non riesco se io sono più felice non è detto che consumo meno acqua cioè questa è la mia domanda come divento più sostenibile cioè io posso essere più felice ma spendere più soldi non rispettare l'ambiente eccetera quindi non è non vedo l'automatismo in modo immediato sì lo so non si vede immediato però ci sono delle ricerche che dimostrano quanto questo sia non immediato ma sia un punto fondamentale per arrivare ad essere sostenibili cioè se non sei felice non diventerai mai sostenibile non ci penserai proprio a fare buone pratiche quindi prima di tutto uno deve lavorare sulla propria felicità per poter essere poi aiutato a diventare anche più sostenibile ok grazie hanno scritto Roberta siete riusciti già a verificare l'esistenza di un bisogno esplicito di questo tipo di servizio di formazione o ritenete che sia un bisogno implicito dovuto al periodo storico in cui viviamo in questo momento no non siamo riusciti a verificare l'esistenza di questo bisogno ma abbiamo dei dati che ci portano altri che lo stanno già facendo è quello che gli altri stanno già facendo all'interno delle società in cui operano rispetto alla felicità rispetto alla riorganizzazione del team stanno rilevando che c'è un interesse sempre maggiore sempre più alto rispetto a questo tipo di prodotto all'interno delle organizzazioni quindi noi non l'abbiamo fatto direttamente ma ci sono altri che già l'hanno fatto hanno dei dati hanno veramente tanto lavoro tanta ricerca dietro rispetto a questo e c'è una maggiore richiesta maggiore maggiore interesse rispetto a magari tanti anni fa leggiamo un'ultima domanda avete studiato un modello replicabile scalabile il modello replicabile scalabile c'è perché noi quello che facciamo è facilmente replicabile scalabile da chiunque si voglia inserire all'interno di questo di questo diciamo sistema di modello tu eppi ovviamente con con serietà con responsabilità e con una giusta formazione questa cosa qui si può ripetere si può replicare in ogni contesto in ogni nazione perché è un modello replicabile non è qualcosa che noi facciamo all'interno solo di un territorio e si può fare solo qui in Italia ottimo grazie mille Samu